L'appuntamento di campionato è ormai vicino. Dopo dieci giorni di preparazione atletica e lavoro tattico, è giunto il momento di entrare nel dettaglio per quel che riguarda la gara di domenica. Aprilia a domicilio, questo ciò che presenta il calendario. Tre punti obbligati, aggiungiamo noi, perché purtroppo, ed è così, questa gara, anzi le due partite interne e la prossima contro il Gavorrano, non si possono fallire. Ciccone e Vullo lo sanno, la vittoria è l'unica possibilità per chiudere almeno il distacco dalla zona play-out e magari accorciare sulla salvezza diretta. In soffitta il 3-5-2 è utilizzato a punte d'era, troppi pericoli e le occasioni subite dagli avversari. Si torna ad un classico 4-4-2, con la variante di un centrocampo a rombo con di vicino mezza punta. Un modulo più adatto per l'obiettivo salvezza e, se vogliamo, anche più facile da interpretare ed utilizzare. L'approccio deve essere quello messo in campo contro il Chieti, ad esempio con la massima attenzione difensiva, anche perché in un modo o nell'altro il gol arriva sempre. O meglio, è arrivato con grande continuità in queste cinque gare del girone di ritorno. Ricordiamo ben otto le realizzazioni del campo basso. La formazione dunque con Super Giuliano in porta, senz'altro il giocatore da rendimento più alto fino a questo momento. Una garanzia per Vullo e per il pacchetto arretrato. Come detto, ritorno alla difesa a quattro, con Pascucci a destra al rientro dalla squalifica, Minadeo e Marino centrali e Silvestri sulla sinistra in leggero vantaggio suo esposito. Centrocampo in caso di rombo, con Reis mediano e Dallocco e Fella mezzali, di vicino trequartista. Altrimenti uno schieramento più lineare, sempre con gli stessi interpreti. In attacco, in compagnia dell'intoccabile Rosario Maiella, ci sarà Bussi, uno di quei giocatori che ha sempre dimostrato grande impegno ogni volta che è stato chiamato in causa. Il cuore rosso-blu deve scendere in campo e raccogliere i frutti con una vittoria che potrebbe far svoltare una volta per tutte la stagione.